L'Argo San Giovanni Maggiore Pignatelli ha di nuovo il suo simbolo, un cedro del Libano che presto tornerà a offrire riparo ai tantissimi frequentatori della piazza. L'albero di 10 metri e mezzo di altezza, costato 12.000 euro ed acquistato dal comune presso un vivaio di Pistoia, è stato portato nella piazzetta nella serata di ieri. Sostituisce il cedro del Libano abbattuto il 12 giugno scorso perché in base alle verifiche eseguite dal comune giudicato malato e potenzialmente pericoloso. Presente alle operazioni di piantamento il vice sindaco Tommaso Sodano. Qui purtroppo c'era un albero, un cedro del Libano di circa 80 anni che era affetto da una grave patologia, aveva delle carie nella parte radicale come si può vedere anche da questo pezzo di ceffaia che è rimasto e che nonostante gli interventi che erano stati fatti, era un albero alto e quindi non era possibile usare tiranti per mantenerlo ancora in vita e comunque c'erano dei rischi ed era stato programmato l'abbattimento prima ancora della caduta e della tragedia del Pino di Anello Falcone, quindi nessuna psicosi, una valutazione serena. Credo che il segnale positivo sia quello di ripiantare la stessa essenza, lo stesso albero, lo stesso luogo. La dimostrazione del fatto che non c'è né una mancata sensibilità né un atteggiamento, come dire, di deresponsabilizzazione. Oltretutto io da agronomo ho un amore viscerale per le piante, per gli alberi, quindi quando si deve abbattere un albero per me è un lutto, quindi non è certo stato bello deciderlo, ma quando i tecnici ci dicono che non c'è alternativa non bisogna fare altro che eseguire e rispettare il risponso dei tecnici. La decisione dell'amministrazione era stata accolta inizialmente con proteste e malumori dai residenti e dai molti ragazzi che popolano la piazza in particolar modo nelle ore serali. Le polemiche sono state fatte, ma in realtà ci hanno speculato molto. Semplicemente c'era un dialogo istituzionale tra municipalità, comune e cittadinanza attiva e quindi non ci aspettavamo l'abbattimento così di punto in bianco. Semplicemente questo. Poi se l'albero era malato chiaramente andava, ma ci avevamo fatto cadere perché effettivamente c'era una grossa carica che lo stava scavando. Oggi abbiamo sulla carta realizzato un grosso progetto tra la polizia, i giardini, la nuova movita, quindi la dolce movita che ripartirà e questo tavolo molto importante istituzionale che abbiamo portato avanti tra l'orientale, il presidente dei vinci dell'ordine degli ingegneri, l'associazione artetica e i commercianti. Quindi c'è anche il Comitato del Centro Storico e anche il 081, quindi ci sono tutte le realtà produttive che fanno parte di questo pazzoletto di terra che è molto importante. Dall'inizio dell'anno il Comune ha predisposto l'abbattimento di una cinquantina di alberi giudicati pericolosi e negli ultimi giorni i controlli hanno riguardato in particolare il Corso Vittorio Emanuele, Via Terracina e i quartieri del Vomero e di Ponticelli. Tra i provvedimenti in cantieri inoltre un censimento del patrimonio arborio della città di Napoli in modo sia da proteggere gli alberi che garantire la sicurezza dei cittadini.